cari amiche cari amici vi offro una notturna una chiacchiera notturna ma sarà breve non spaventate allora per festeggiare la giornata di oggi e il traguardo raggiunto delle oltre 500.000 visualizzazioni vero che vi ho tempestato di video siamo a 1800 e qualcosa nel giro di due anni e poco più forse non lo so dovrei andare perché poi siamo stati dei mesi in silenzio non so se vi ricordate carina la stefi e tutte quelle che siete qua da allora insomma che bello che belle chiacchiere che ci condividiamo allora che cosa ho pensato di offrire un tutorial non mio però di offrire un tutorial per le e i mancini perché non ne parliamo mai di chi è mancino e ad esempio ho un'amica che ha imparato a lavorare a maglia come da mancina ma perché lei ha imparato guardando la sua nonna che aveva di fronte e quindi lei ha realizzato il tutto in maniera speculare e non è mancina quello che è ganza e quindi adesso sotto nell'info box troverete il link per andare a vedere il tutorial per realizzare questo scialle questo triangolo che ecco è una delle forme che io preferisco nei triangoli perché o sono degli scaleni molto 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 sciarpe diciamo o sono questi triangoli che crescono più in larghezza che in altezza dalle nostre parti non so se anche dalle vostre si dice te ci lunga te ci larga che lunga che uno ha preso un po di peso ecco lui sarà ci largo che lungo parlo un po spezzino ogni tanto è carina secondo me anche il fatto che non abbia una punta accentuata ci sono due opzioni veramente una non mi sembra di averla vista realizzare però c'è la possibilità almeno perlomeno ci sono i caccia il campione che mostra questo particolare che è il granni abbiamo un granni volendo è un granni e i granni laterale e la invece lo vediamo con un punto puff quindi vediamo sia questa versione che è quella del tutorial e poi alla fine ci sono le due versioni quella così tale quale e quella con i margini laterali con una specie di punto un punto puff non ho visto come lo fanno finire sinceramente poi vi aggiornerò intanto vi pubblico il tutorial cos'è questo motivo centrale allora questo motivo centrale ricorda molto molto una delle retti di fondo del della trina di orvieto del del uncinetto di irlanda e trina di bolsena anche e noi spaventate può essere seguito anche dai destrorzi se di sa così e seguite le scritte allora è un tutorial piuttosto veloce quindi diminuite la velocità sapete che andate in alto a destra guardate video ve lo devo fare la sequenza fotografica in alto a destra c'è una rotellina schiacciate su quella rotellina vi si apre una una finestra e avete la possibilità di scegliere un sacco di cose andate su velocità allora la velocità evidenziata è quella normale quella della normale visione che abbiamo tutti e andando verso l'alto la velocità diminuisce andando da normale verso basso la velocità aumenta ricordatevi anche che potete stopparli i video mentre guardate prendere appunti ma io tolto tutto il volume preferisco anche perché non parla in italiano quindi i suoni mi danno fastidio ma ci sono le scritte tutti i passaggi vengono scritti ci sono i sopratitoli invece che sottotitoli in inglese ci sono le diminuzioni in inglese che sono semplici da seguire ma se non capite le cose strane io ve le dico così allora non ve lo spiego è bello andarsela a vedere anche perché visto che è stato pubblicato andiamolo a seguire ma dovete solo saper fare delle catenelle delle maglie bassissime sono quelle che si ripetono tanto le maglie bassissime quanto le catenelle e dovete saper fare la maglia alta basta è tutto lì maglia alta maglia bassissima e catenelle non vi dico quante non vi dico dove non vi dico come comincia andate a vedere il tutorial della signora io cosa ho scelto per onorare questo traguardo ma non è un traguardo è un bello step che bello che divertimento e grazie a voi siete voi che andate a vederle quelle cose lì che vi lascio spero di esservi d'aiuto non solo di compagnia però già il fatto che le persone scelgano di stare in compagnia di sentirmi di ascoltarmi perché si sentono in compagnia beh è una cosa bella allora che cosa ho scelto per onorare questo nostro traguardo ho scelto questa cosa semplice ecco qui uno chalet caffettino oggi l'amica stefi me ne ha passati due veramente carini e che conto di fare e poi di indicarvi e allora per questa cosa così eterea volevo che ricordasse veramente un merlettino quindi non sono non ci ho dato su con il volume e la consistenza del filato ho voluto ho scelto due filati proprio preziosi che ho in casa allora uno ed è quello lilla che vedete viola non è proprio lilla è proprio un bel viola quello è un cashmere puro 100 per cento a due capi ben ritorti che andrà affollato quindi quello che vediamo adesso non sarà la stessa cosa che vedremo dopo il lavaggio anche se credo che non sarà molto diverso ma non ho fatto il campione non mi importa come come viene viene e poi gli ho abbinato un filato preziosissimo rarissimo ma veramente raro che è la seta che vi ho mostrato un po di tempo fa anche più volte ve l'ho mostrata una seta malberry in cono sottilissima prodotta da un'azienda che purtroppo ha chiuso qualche anno fa un'azienda italiana che produceva filati per calzini da uomo quella seta lì veniva utilizzata per un calzificio calzettificio calzificio come si dirà e da uomo quelli che si reggono con il reggi calze sotto al ginocchio come quelli di pipo baudon è meravigliosa è un blu particolare quasi un blu pavone è proprio di una qualità e perché questo abbinamento chi ne va a patire nessuno dei due ne patisce allora la seta mi terrà vicine queste maglie abbastanza aperte sto lavorando con un due e mezzo un uncinetto che mi piace veramente tanto che ho acquistato a viterbo nella mercedia di francesco purtroppo ho saputo che il signor francesco è venuto a mancare e conto di riuscire ad andare insomma a fare le condoglianze alla signora che mi ha sempre parlato sempre ultimamente questi ultimi tre anni con tanta tanta stima e anche simpatia allora questo è un uncinetto in alluminio è particolare al tatto veramente gradevole sono gli uncinetti che io amo questi qua è un uncinetto leggero non produce un rumore sgradevole se scontro che anche quello mi irrita è proprio fatto adatto alla mia impugnatura insomma il gancio prende bene non ha nessuna bavetta antipatica all'interno aspettate che vediamo se riesco a farvelo vedere ce lo metterà a fuoco non è tanto fa fatica un po e quindi due e mezzo e voglio proprio il movimento che vedete sembra quasi un effetto bucle potrebbe essere gradevole anche con un filato un po più grosso io alcuni ce li ho in mente allora questo tipo di lavoro mi potrebbe piacere anche con la in band che è una delle lane sottili perché poi adesso la istex islandese a diciamo che promuove anche altri filati non prodotti con le lane auto le pecore autoctone o perlomeno sono delle merinizzate mentre le lane le pecore islandesi non sono pecore merinizzate quelle che producono quella lana tipica dalla fibra riccia e che cosa con cosa lo volevo farei un lavoro del genere avevo pensato alla silva paca che non viene mai della malabrigo no 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 mi chiuderebbe troppo le maglie non mi darebbe questo effetto merletto che mi piace molto non dico che verrebbe una cosa brutta ma troppo fluida anche no allora lo potrei fare si potrebbe fare anche con dei bottonati tipo quello di malo che abbastanza sottile ma non tantissimo diciamo che userei potrei usare un 3 per quel bottonato e potrebbe essere interessante vedere le inclusioni qua in mezzo lo farei con la canapa naturale non candeggiata dell'inificio canapeficio nazionale che ho su rocca lo farei anche con il lino sempre dell'inificio canapeficio nazionale che ho su rocca naturale anche lui non tinto né candeggiato e a loro abbinerei guardate ora vi faccio vedere due chicche quello arancione me lo perdo sempre allora la shantung questa è seta shantung che ho acquistato sul sito di triscott anni fa e viene proprio dalla zona dello shantung seta shantung 100% questa è la dimensione e la abbinerei proprio al lino certo non in questo colore però perché il lino è verdastro è un grigio verde non mi piace con questo però gli potrei abbinare il rocchetto arancione ha un bellissimo arancio che me lo sono perso in giro per casa quindi guardate com'è e insieme al lino sarebbero veramente una bellissima accoppiata ecco lui insieme alla canapa canapa visto anche queste questi baffetti che presenta chiaro oppure con questo rocchetto di seta pura è una seta meravigliosa adesso poi lo so c'è riflesso purtroppo è fastidioso ve lo leggo quello che c'è scritto qua la seta su rocchetti vendonsi a misura e non a peso viene preparata in tinta leggerissima conservando in tal modo al filo la sua forza e lucentezza quindi questa è una tintura leggera che non è andata a coprire completamente la natura del filato anche il colore del filato è un color oro oro sbiadito non è un beige non è un ecru forse quasi ecru ma molto oro è a più capi è particolarmente ritorta e questo è un marco storico è un marchio marca faro cucirini cantoni cozz milano è bellissimo pura seta eccola guardate sotto alla torsione non sono tantissimi metri su questo vedete il è il bollino superiore e qui abbiamo gli altri dati ecco qua seta reale il numero dell'articolo è 91 metri io di questi rocchetti ne dovrei avere tre ne avevo cinque due non so dove devo averli regalati quindi se due sono sicuri perché li ho qua ma mi sembrava fossero tre 99 18 sono 182 metri perché sono 91 e potrebbero far parte di una sciallina diciamo e lei sarebbe proprio bella è bella vicino la canapa le darebbe una bellissima luce la perderemo la sua il suo la sua mano bellutata non è mica detto è certo che in un pizzo così devono cantare bene insieme i filati quando li abbiniamo e io sono veramente contenta già della luce domani la vedete quella luce naturale ecco ma è veramente un'abbinata secondo me speriamo che sia completamente vincente lo vedremo al lavaggio lo vedremo al lavaggio magari prima di lavare il capo grande faccio un campione lo lavo dopo magari non lo vado manco più a lavare lo laverò a secco lo farò non lo so vedremo con l'acqua il campione come si comporterà intanto sono contenta di vedere il risultato adesso della luce che viene accentuata proprio da questo blu intenso che si nasconde non toglierà niente al cashmere e la seta è talmente sottile ora vi faccio vedere con cosa sto lavorando aiuto eccoli qua sono insieme ecco il filato più sottile la seta e questo è il cashmere un cashmere da follare quindi vuol dire che si 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 gonfierà un pochettino e anche la colorazione renderà in una maniera diversa non sarà certo lucido ecco ma questo capello di seta si sente si sente perché mi tiene unite bene le maglie i movimenti del filo eccolo qua questo me l'avete ispirato voi con i saluti affettuosi non siamo tantissimi che chiacchieriamo tra di noi però è una cosa bella insomma sono sono contenta è stata un'avventura sulla quale non ho puntato niente diciamo se non faccio una cosa che mi piace fare la faccio perché mi manca quello che ero abituata a fare e mi ha permesso diciamo di reggere in questi anni terribili questi due anni terribili e chissà cosa ci aspetta adesso e mi avete fatto riflettere su tante cose abbiamo vissuto dei momenti traumatici che ancora mi avevo da riprendere però mi fa da stimolo ecco mi spinge a fare di più non per riscattarmi perché io che colpa ne ho ma che colpa abbiamo noi ma per aiutarvi ecco perché se non parte che la questione di fiducia quando affrontiamo certo io sono una persona che dà fiducia non sono una diffidente per natura adesso sarò ancora più accorta se mai mi dovesse capitare di incontrare dei filati che non conosco diciamo che non posso arrivare proprio alla fonte della produzione farò i miei test per conoscerli però questo mi ha fatto da stimolo perché mi rendo conto che c'è bisogno di avere tanta conoscenza di studiare bene tutte le possibilità che abbiamo per comprendere al meglio il mondo dei filati questo sì e io non so tutto non lo saprò mai però ecco mi piace ascoltare mi piace mi appassiona proprio l'apprendimento la condivisione per per aumentare la conoscenza e poi aumentare anche il piacere di di approcciare filati diversi filati nuovi filati vecchi che non avevo ancora incontrato vecchi anche per età anche giacenze parleremo sì delle offerte che ci sono in rete man mano che trascorrerà il tempo ne sceglierò alcune tipologie vi motiverò perché le scelgo ma non disdegneremo le mercerie i negozi della via del paese della città insomma dove possiamo dialogare dove possiamo avere subito delle risposte dove possiamo guardare con calma riflettere e trovarci le nostre offerte oppure proporre che ci vengano fatte delle offerte che magari le persone ci sono negozi dove non sono abituati a fare le cestini delle meraviglie allora possiamo noi chiedere dei fine bagno se non ci interessa che il capo che andiamo a fare o la nostra collezione nella nostra collezione insomma tutte le cose appartengono al medesimo bagno se usiamo un colore o alcuni colori e fare con garbo con gentilezza senza arroganza senza furbizia magari con simpatia se vediamo che dall'altra parte c'è insomma un margine con simpatia fare le nostre proposte non tutti i negozianti sono abituati appunto a considerare i fine bagno i fine serie come delle belle opportunità c'è chi le accantona e basta che magari ha dei filati fermi da tanto tempo e pensa che non possano avere più nessun valore ma noi che noi sappiamo che ne possiamo mettere insieme per arrivare a a delle colorazioni particolari o a delle texture particolari magari andate nelle mercerie se cercate del filo da uncinetto o da maglia non vi vengono a presentare questi rocchetti che sono più da cucito beh sì per cucire vestiti di seta di solito si usa lo stesso materiale per 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 cucire sartorialmente le cose a meno che non si voglia creare un effetto particolare la seta si cuce con la seta cotone col cotone il lino con il lino con determinati cotoni poi ci saranno anche regole che io non conosco ma mia nonna così faceva però un filato così come io adopero quella seta in un capo così e quella seta l'ho adoperata anche in tessitura per alcuni particolari è fragile nel senso è talmente sottile che si riesco a romperla con le mani questo non vuol dire che sia un filato danneggiato ma è veramente così sottile e non è nylon non mi vado a spaccare le mani ecco ci sono dei filati di cotone che veramente rischiamo di farci del male quando vedo che a mani indute si cerca di rompere determinati fili non faccio a volte non faccio neanche in tempo a dirlo le persone si trovano ferite ci sono dei filati che bisogna ecco ha bisogno dell'uso delle forbici ma non tutti e questo non vuol dire che sono filati scadenti spesso incide la dimensione di un filato questa seta è veramente molto 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 sottile ma immaginatevi i calzini che meraviglia ecco guardate è proprio è proprio un capello ma toccare la rocca un'emozione perché è bello frequentare gli incontri che organizza la lorenza perché porta le chicche che ha nascoste a casa che se le nasconde proprio anche ai suoi occhi perché sennò poi piange le adopera e non vuole poi si penta no non avrei dovuto perché adesso se l'avessi avuto a che belle chiacchiere ecco inizieranno i nostri inizieranno degli incontri qua o non sarò in trasferta farò 50 metri ecco iniziamo degli incontri in it cafe mattutini adesso vedremo di fissare anche dei pomeriggi ci sono diversi paesini quindi se vi farà piacere in it cafe non richiedono delle iscrizioni però magari se si avvise è meglio perché si possono preparare i tavoli e le sedie il bar è un bar con un'unica sala a l più o meno non è enorme però ci si può comunque ci si può organizzare la signora ha intenzione addirittura di creare dei nuovi gazzebili scaldati all'esterno per l'autunno e per l'inverno quindi insomma grotte santo stefano non è è abbastanza vicino a roma diciamo un'ora e venti con il treno diretto siamo raggiungibili senza scali insomma vediamo vediamo di riuscire a trascorrere un autunno di un inverno una bella primavera facendo cose assieme in it cafe ripeto non sono dei corsi però proporrò degli argomenti ci saranno dei materiali lì si chiacchiererà e si porterà avanti dei propri lavori insomma non sarà luoghi di consulenza che ci si potrà dire io ho da fare questo io vado a fare quell'altro anche se no non si fa niente quelli magari organizzeremo degli incontri specifici affrontando di volta in volta determinati argomenti in modo che possano essere interessanti anche per altre persone e poi per i corsi e ci si ci si potrà organizzare in luoghi anche diversi sono contenta vi saluto vi auguro una buona notte vado ancora avanti con questo mio lavoretto che ho delle cose da ascoltare domani porto avanti le maniche di camilla e mi piace molto ecco e mi piace anche perché il tutorial che seguirete è un tutorial gestito da mani non italiane con una tecnica appunto vedremo delle mani che lavorano delle mani mancine delle mani mancine un gesto mancino diciamo un tiro mancino no non è un tiro mancino però vedremo lavorare un crochet per mancini e anche la gestione del filo è interessante un po come faceva l'uncinetto o come fa l'uncinetto la mia amica minodora spero che sia andata nella sua bella romania che ci voleva tanto stava facendosi questa sua casa in campagna con tanti alberi da frutto ecco peccato quando ci perdiamo i contatti e ci perdiamo degli affetti le persone che stimiamo ecco lei minodora faceva l'uncinetto come questa signora però minodora non era non è mancina buonanotte e spero che questa questa cosa vi possa piacere sia la chiacchiera sui filati l'idea di farvi scuriosare ecco ma vanno usati con intelligenza queste mi sto dando dell'intelligente non so se rende ecco a volte sono sprecati in questo caso la seta che ho scelto mi fa da sostegno per i movimenti che voglio aperti del cashmere che il cashmere è una fibra così dolce che non tiene molto certe ampiezze non le mantiene da sola vediamo se se andrà tutto bene insomma buonanotte